Ragazzi, avete difficoltà ad arrivare in divisione 1 o non ci siete mai arrivati anche se avete una squadra di ottimo livello? Per migliorare non servono gli epici, non servono i big time, servono le conoscenze, servono le abilità. Da oggi potete contattarmi per ricevere delle lezioni private di football personalizzate, dove vi insegnerò sia le nozioni base che quelle più avanzate, dove vi farò apprendere tutti i comandi nascosti di questo gioco, le funzioni sconosciute alla maggior parte dei player di medio livello e le skills che mi vedete fare nel mio road to glory. Tutto ciò vi permetterà di arrivare ad un buon livello e vi eviterà tante arrabbiature dovute alle delusioni che può dare questo gioco. Trovate tutti i social per contattarmi in descrizione, vi aspetto numerosi ragazzi. Bella ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Simo Play, oggi siamo di nuovo insieme per parlare di football 2024. In questo nuovo video vi riporterò alcune indiscrezioni su due argomenti, argomento Master League e argomento aggiornamento della grafica. In realtà parleremo un attimino anche di crossplay, di cop, perché aggiungo sempre una infarinatura degli altri argomenti, voi lo sapete, però questioni principali quest'oggi, Master League, aggiornamento della grafica. Quindi mi raccomando, guardate tutto il video. Ragazzi, questa parte è fondamentale, non andate avanti, anzi a aver prima lasciato l'iscrizione con la campanella attivata, ma soprattutto senza aver messo un bel like a questo contenuto. Più like ci saranno, più video informativi di questo tipo porterò sul canale, quindi se apprezzate il mio lavoro, mi raccomando, supportatemi attraverso i like. Ok gente, non perdiamo ulteriore tempo, quest'oggi, come già detto, indiscrezioni. Indiscrezioni vuol dire nulla di sicuro, nulla di ufficiale, quindi prendiamo tutto con le pinze, mi raccomando. In questo caso, e non è sempre così, chi mi segue lo sa, le indiscrezioni provengono dal noto influencer brasiliano Renan Galvani, che dice, per quanto riguarda il campionato Master, ovvero la Master League, ho già risposto 490.000 volte, è vero, è vero, però rispondiamo ancora una volta. Robby Aaron, che sarebbe, per chi non lo sa, un noto lavoratore, diciamo un boss di Konami, per quanto riguarda soprattutto l'America, eccetera, eccetera, quindi anche il Brasile, ha riso, ma le mie informazioni, cioè l'ha preso in giro per quello che ha detto Galvani, che la Master è pronta, adesso vi dirò, ma le mie informazioni sono sicure al 100%. La Master League è diventata gold, terminata, quindi è stata finita, è pronta, da metà novembre 2023. Adesso rilasciarla aspetta a Konami. Ricorda che il gioco è in season, in stagioni, quindi non hanno fretta, lo rilasceranno al momento giusto. Proprio quello che vi dicevo io, un paio di contenuti fa, l'ultima volta che abbiamo parlato di Master League e di indiscrezioni, eccetera. Adesso a Konami non conviene rilasciare la Master League, perché ha altro a cui pensare, cioè prima deve terminare il rilascio di tutti gli altri contenuti online che secondo me sono in pista di lancio, come ad esempio il crossplay che, secondo me, al 90% arriverà nella prossima season, nella prossima stagione, però chiaramente non ne abbiamo la certezza. Io spero che sia così per velocizzare un po' il tutto. Poi, secondo me, visto e considerato l'evento che attualmente viene rinnovato di settimana in settimana dedicato alla Cop, presente appunto nel gioco, secondo me arriverà anche una classifica, un matchmaking con una classifica per le Cop. Perché? Perché questo evento non è fini a se stesso, secondo me è un test che stanno facendo del matchmaking, per vedere quanta gente gioca in Cop e come funziona l'accoppiamento in Cop, se i server girano, eccetera, eccetera. Quindi, secondo me, questo è un test finalizzato al rilascio di una modalità, di una vera modalità Cop. Questo è quello che penso. Quindi, quantomeno dobbiamo aspettare due stagioni per vedere la Master, per come la penso io, perché prima deve esserci la stagione dedicata al crossplay e la stagione dedicata alle classificate Cop. A meno che non decidano di far uscire prima la Master, ma la vedo dura, ragazzi. Sul fatto che la Master è pronta, io ci credo. Anche secondo me la Master è pronta, perché ci stanno lavorando da anni, ragazzi. Ne abbiamo la certezza, grazie a Durandil PES, che diverse volte ha trovato codici occulti all'interno del database di Steam, che appunto ci mostrano nuove animazioni, nuove grafiche per la Master League, nuovi oggetti di scena, eccetera, eccetera. Quindi, secondo me, è vero che è pronta, anche perché quanto ci vuole a fare la Master League? Cioè, già più di due anni. Ed è vero che stanno aspettando il momento giusto. Probabilmente la motivazione è quella che vi ho spiegato. Devono prima rilasciare gli altri contenuti online, perché questo è un gioco a stagioni, questo è un gioco che deve durare nel tempo. Infatti, Galvani ci dice, con un modello gratuito, quindi free to play, il gioco non sarà mai completo. Cioè, intende, è tradotto male, intende, non sarà mai completo tutto in una volta, come i vecchi PES che tu paghi, e hai tutto, non succederà mai. Dobbiamo sempre aspettare la nuova stagione, perché questo serve a far accrescere l'hype, quindi a dire, chissà, nella prossima stagione uscirà qualcosa che aspetto. Chissà, magari ciò che voglio, in questo caso la Master League arriverà nella prossima stagione, quindi attendiamo. Quindi stiamo incollati al gioco. E questo il marketing di Konami, e questa la strategia. Perché questo progetto di football è stato stanziato per dieci anni, fino al 2030, quindi deve essere portato avanti, può e deve essere rinnovato fino a quella data. Il campionato Master, la Master League ritorna a parlare, della Master League è pronto da novembre, quindi lui ne è proprio sicuro, dipende da loro, però. Parlando di grafica, invece la grafica non è più una priorità nel gioco crossplay. E voglio soffermarmi un attimino su questo aspetto, ragazzi. Perché sì, è vero, finché il gioco sarà crossplay, e per crossplay si intende quando arriverà il crossplay, ovviamente ci saranno anche console di vecchie generazioni, oltre che quelle di nuove generazioni. Finché ci sarà questo, quest'ibrido, quindi PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Series S, tutti insieme, la grafica, ragazzi miei, bisogna dirlo, non potrà mai essere la nuova generazione, perché deve essere una grafica castrata, deve essere una grafica chiaramente un attimino inferiore per farla girare anche su console di vecchia generazione. Poi, se prima dell'arrivo del crossplay decidono di scindere le versioni, allora è un altro conto. Perché se ci sarà versione old gen con il crossplay tra Xbox One, PlayStation 4, eccetera, versione next gen con il crossplay tra PlayStation 5, Xbox Series, eccetera, è un altro discorso. Ma a quel punto dovrebbero scindere anche le versioni PlayStation 5 e PlayStation 4 che adesso sono unificate. Chi ha PlayStation 5 può giocare con PlayStation 4. A questo punto dovrebbero creare due giochi completamente diversi, una sorta di Legacy Edition per le vecchie console esattamente come fa FIFA e la versione vera e propria per le console di nuova generazione con contenuti similari, chiaramente, ma con grafiche ben diverse. Questo è quello che dovrebbe succedere secondo me per far sì che possa arrivare un gioco veramente next gen fino a quando saranno unificate le versioni all gen e next gen difficilmente la grafica farà un salto di qualità. Questo è quello che penso io e quello che pensa Calvani ed è la cosa più logica da pensare secondo me. Che poi dei miglioramenti minimi ci saranno ovviamente perché comunque si può fare meglio anche tenendo unificate le versioni però non aspettatevi mai che il gioco stratosferico a Real Engine 5 fin quando ci sarà all gen e next gen insieme questo è certo. E ragazzi io direi che per questo video può bastare così come sempre vi invito a farmi sapere nei commenti che ne pensate su tutti gli argomenti di quest'oggi secondo voi la Master League è pronta secondo voi arriverà una grafica next gen o ci sarà effettivamente bisogno di scindere le versioni old e quelle next ditemi la vostra opinione come già detto qui sotto nei commenti io come sempre vi ringrazio per essere stati mia compagnia noi ci vediamo al prossimo video un abbraccio e un saluto dal vostro Simo Play bella ragazza grazie a tutti grazie a tutti